21 giorni di coma, 50 giorni di covid, 5 dicembre il risveglio. Prima del risveglio un sogno, possiamo chiamarlo come titolo Cercasi Chiesa. Sì, decisamente sì. Immagino verso la fine del coma, quando mi stavano risvegliando, io ho fatto un sogno. Ho sognato una chiesa di legno, in cui c'erano gli alpini che cantavano e pregavano. E io nel sogno dicevo che ci dovevo mettere un quadro per grazia ricevuta. E questa chiesa era collocata tra le capanelle e montorie, insomma in montagna. Adesso avrei il desiderio di ottemperare questa cosa che io ho sognato. E quindi spero di trovarla e di realizzare questo desiderio e di porre lì un quadro per grazia ricevuta. Può abbassarsi poco poco la mascherina, un attimo. Ci sono ancora i segni del covid, comunque del coma. E allora facciamo un appello. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti per trovare questa chiesa. Sì, mi piacerebbe che se qualcuno conoscesse una chiesa in legno, magari che me lo faccia sapere, perché ho questo desiderio di poter veramente ringraziare il Signore per questo aiuto che sicuramente mi ha dato, oltre alla professionalità sicuramente dei medici del reparto di Teramo.